Ciao a tutti amici del capoluogo, buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con Freide L'Aquila 19-27, oggi in compagnia di un foggiano, sei un foggiano, è la verità, nato a Cerdignola, giocatore classe 96, Roberto Morra, benvenuto Buonasera a tutti I capelli sono mesciati? Sì Ok, quindi non sei proprio il biondissimo così naturale No, no, però ha portato fortuna perché gli ho fatto il giorno prima di fare gol Ah, wow, allora torniamo dal parrucchiere più spesso magari Ok, Roberto Morra, giocatore dell'Aquila 19-27, stagione importante questa per lui, l'ha appena accennato due settimane fa E' andato anche in gol, il primo gol stagionale Sì, il primo gol stagionale, grossa gioia, immensa, ma soprattutto per la squadra personale sì, ma la squadra viene prima Quindi sono contentissimo Sì, vabbè, tanto voi dite tutti così Vorrei parlare con te dei numeri di questa squadra Perché c'è un dato importante che, diciamo, cozza un pochino con l'andamento della principale antagonista di questa stagione Cioè il Mutignano Allora, conti alla mano sono 35 punti per entrambe Quindi, diciamo, siete prime appaiate 11 vittorie, due pareggi, due sconfitte Stesso identico rendimento, se non fosse per i numeri dell'attacco e della difesa Perché? Per quanto riguarda i gol fatti Mutignano 26, l'Aquila 40 Voi siete i primi per distacco totalmente Situazione inversa per quanto riguarda invece la difesa Perché loro ne hanno subiti soltanto 7 Sono la miglior difesa di questo campionato Voi ben 16 Quindi, se vogliamo trovare una piccola pecca in questa squadra È proprio la fase difensiva che fatica un pochino a decollare, giusto? Sì, magari a volte concediamo troppo Però la maggior parte dei gol sono venuti per errori nostri, secondo me Mai pochi per bravura dell'avversario Magari Mutignano è molto bravo a difendersi E magari... Noi comunque attacchiamo tanto Quindi magari anche se vinciamo 3-4-0 Un po' gli spazi li lasciamo dietro E quindi rischiamo di prendere i gol Ultimamente sta succedendo spesso Dovremmo evitarlo comunque Perché i gol subiti sono importanti Sicuramente ci sarà modo di lavorare Vorrei ripartire dall'ultima volta che l'Aquila è scesa in campo E cioè domenica, 5 giorni fa 4-1 sul Fontanelle Tra l'altro Fontanelle in vantaggio inizialmente Poi l'Aquila l'ha ribaltata Vi facciamo vedere velocemente tutti i gol In my mind, in my head This is where we all came from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for And in my mind, in my head This is where we all came from Allora, 4 reti importanti a conferma Insomma dell'andamento sicuramente importante Per quanto riguarda lo score offensivo della squadra Domenica invece, tra due giorni Ci sarà un derby importante E forse importante per te soprattutto Giocherete contro la Midernina Abbastanza importante per me Perché ho trascorso due stagioni e mezzo lì Prima di approdare all'Aquila l'anno scorso Quindi comunque è stato, diciamo, la Midernina mi ha cresciuto E' stata la mia seconda esperienza di prima squadra comunque Quindi mi sono trovato veramente bene lì Però poi l'anno scorso ho fatto questa scelta di lasciare Anche se mi hanno riconfermato Per giocare all'Aquila Sicuramente una piazza molto importante Io vorrei partire adesso dalle foto Che abbiamo raccolto per quanto riguarda la tua vita Al di là della vita da calciatore Quella degli affetti, no? Quindi partiamo magari con la prima immagine E questa è una foto molto bella Tu hai detto forse la più bella che vi ho lasciato Sì, perché praticamente rappresenta la mia infanzia Cioè sono i miei due nipoti I figli di mio fratello Praticamente il grande è il 2002 E il piccolo è il 2006 Quindi ci portiamo pochi anni di differenza E siamo cresciuti insieme Quindi vi voglio un bene dell'anima Ora ormai sono grandi Il grande ha quasi 18 anni Quindi penso che ho trascorso la maggior parte del mio tempo Insieme a loro E veramente li ringrazio per tutto l'affetto che mi hanno dato E mi stanno continuando a dare Comunque mi seguono anche da casa Andiamo avanti E questa no? È una tribù questa? Questa è... Eravamo a Roma al matrimonio E la famiglia della mia fidanzata Sono i genitori, la sorella e il ragazzo Sono i miei suoceri praticamente Quindi per me è importante La tua seconda famiglia? Esatto Loro anche mi hanno accolto tantissimo a casa Non mi hanno mai fatto mancare niente E volevo ringraziarli Bravo Non è da tutti Lui è l'uomo più importante della mia vita Mi ha sempre seguito Non mi ha mai mollato E mi ha sempre incoraggiato E veramente mi segue sempre Come hai detto tu prima Ogni domenica mi chiama Mi dice forse in bocca al luco Vi vengo E quindi è un papà speciale per me Da un papà speciale ad una mamma speciale Eh certo Poi la mamma per noi figli maschi è la mamma È intoccabile Quindi ancora più di papà Anche per le femmine Sì sì Ma forse anche di più di papà Perché veramente mamma basta solo che mi guarda E io capisco subito quello che devo fare Non c'è bisogno nemmeno che parla Loro ti seguono? Vengono all'Aquila a vedere le partite? Sì sì vengono In casa vengono sempre Ma non solo quest'anno Sono ormai Anche quando giocavo alla mitarnino Alla mitarnino Loro mi hanno sempre seguito Sempre sempre Bene Questo invece? Questa è una foto abbastanza vecchia Sono mio fratello e mia sorella Che anche loro veramente mi hanno cresciuto tanto Anche per il fatto che i miei genitori lavoravano E soprattutto mia sorella Era gelosissima, piccola Era come una mamma per me diciamo Come si chiamano i tuoi fratelli? Mia sorella è Elisabetta e mio fratello Gerardo Si è sentito per la prima volta l'accento pugliese Andiamo avanti con le immagini Lui è appena nato È il figlio di mia sorella Si chiama Mario E di febbraio come me acquario Quindi speriamo venga fuori come me Diciamo come carattere Come sono gli acquario? Scusa Come sono gli acquario? Sono forti i carattere Ah ok Abbastanza Sanno prendere decisioni Quindi è stata veramente una gioia immensa Soprattutto sono stato contento per mia sorella Lei adesso è la persona più importante della mia vita Per il momento Spero lo continui ad essere La mia fidanzata si chiama Francesca Eccola qua Hai una bellissima fidanzata Complimenti Grazie Lo so me lo dicono tutti Speriamo di essere alla sua altezza E niente Sono felicissimo con lei Lei viene a vedere le partite? Sì sì Lei lavora dal lunedì al venerdì Poi stacca e viene qui E stiamo insieme tutti i fini di settimana Che bravi Domenica mi segue Bene Lui è uno dei due miei amici speciali Emanuele non mi ha mai voltato le spalle Mi chiama tutti i giorni Mi chiede anche lui gioca Lui gioca in eccellenza In Basilicata a Tolbe Ok Quindi ogni tanto ci sentiamo Magari abbiamo giocato con le stesse persone Però sono veramente tantissimi anni Che ci conosciamo E che non ci portiamo mai le spalle Diciamo E qui ce n'è un altro? Esatto Loro due sono proprio i miei amici Che non mancheranno mai Penso nella mia vita Perché in qualsiasi momento Non mi hanno mai detto di no E veramente devo tutto a loro Anche lui gioca a calcio? No no lui no Lui ha un figlio Ha scelto un'altra strada insomma Sì sì E il bambino addirittura Mi manda dei messaggi su Instagram Mi chiede Quando torni Robè Perché molte volte usciamo insieme Anche con la famiglia E' veramente speciale lui Ok avevamo già visto una foto Eccola qua E qui cominciamo a parlare Di calcio Questo è praticamente Il primo anno che sono arrivato qui L'anno della Beretti Che ho fatto Ho fatto il settore giovanile Qui all'Aquila Due anni E infatti ero giovanissimo Si vede Era penso sei anni fa E' stata la mia prima esperienza Comunque E attenzione perché dietro c'è Magari se lì riesce a mandarcela di nuovo C'è una scritta importante Per chi si legge Lega Pro Eccola qua Perché diciamo La tua prima esperienza In prima squadra E' stata tra i professionisti Perché l'Aquila militava Forse per l'ultima stagione Sì l'ultima stagione Sì esatto E praticamente Dopo due anni di Beretti Hanno deciso di farmi il precontratto Così e Mi sono allenato Fino a dicembre con loro E' veramente grande gruppo Allenamenti Grandi ritmi Comunque anche l'allenatore Era molto bravo Era una bella squadra Veramente L'ho imparato secondo me Il 90% di quello che sono adesso Comunque Lì mi sono formato Veramente tanto Poi a dicembre Ho fatto la decisione Di andare via Di andare alla Mitermina E qui pure Questa è stata La terza convocazione nazionale Questa è una foto importante Perché insomma Il tricolore sul petto Significa che Stai facendo davvero bene Sì Questa era la nazionale Di professionisti Praticamente Di Serie C Eravamo a Cremona Abbiamo fatto Il torneo delle nazionali Io ho giocato contro l'Albania Solo una partita E' veramente Anche quella E' stata un'esperienza unica E penso irripetibile Qui? Qui ero a Miternina E' stato il mio primo anno Di Miternina Cosa porti dietro? Come bagaglio Dai due anni e mezzo Con la Miternina? Porto tanto Porto Perché comunque Sono stati anni Non dico difficili Però comunque Sono maturato tanto Perché sono stati Soprattutto il secondo anno Siamo salvati All'ultima giornata Comunque Il gruppo E' stato bello Veramente Al di là di tutto Quello qui Che circonda Il calcio Qui? Questa è stata La mia prima convocazione Nella Lega Pro Ed eravamo al Fattori Qui Questo è lo spogliatore Del Fattori Giocavamo contro L'Arezzo Se non sbaglio Sono entrato Ma a cinque minuti Scusa Lega Pro Non dovrebbe esserci Anche il nome Sulla maglia? No Non c'era Quell'anno Ok E' una delle soddisfazioni Più grandi Per un ragazzo Per un giocatore Vedere il nome Sì Però Anche giocare A livelli professionistici E' veramente Una cosa unica E' indimenticabile Qui il stesso spogliatoio Praticamente Sì E' un'altra partita La mia seconda convocazione Perché ho avuto Due convocazioni E sono stato Molto contento Per il mister Comunque Mi abbia tenuto In considerazione Credo sia l'ultima Questa Questa è la foto Dell'anno scorso Ci tenevo a mettere Perché abbiamo Vito il campionato Grandissimo Gruppo Veramente Finivi l'allenamento Non te ne volevi mai Andata allo spogliatoio Perché stavi talmente bene Che potevi dire Guarda raga Rimaniamo qua Pura Dormiamo qui Già che ci siamo Perché Oltre ad essere tutti Veramente Qualità Indiscusse Veramente Ragazzi Magnifici Hai detto delle cose Davvero Molto belle Grazie Volevo chiederti Se anche tu Conosci Le gesta Chiamiamole così Dei ragazzi Di Abruzzo Calcio Ignorante Non hai avuto modo Ancora di conoscerli Male Molto male Te li facciamo conoscere Attraverso Il solito collegamento Poi Nel frattempo Mentre va il collegamento Ti spiego due o tre cose Eccoli qua Ciao Richard Eccoci qui Siamo pronti Per andare a analizzare Le stravaganze Sui campi di Abruzzo Torna il mio compagno Di viaggio Richard è qui con me E come al solito Da dove partiamo? Partiamo da questa immagine Che ci viene Dalla San Salvese Squadra Della seconda categoria Beh Dobbiamo dire Che comunque L'eroe di giornata È proprio lui L'unico tifoso A vedere la partita San Salvese Tornareccio Quello che potrebbe essere Considerato Uno dei derby Della provincia di Chieti È un nostro eroe Proveremo un giorno Ad invitarlo Nelle nostre trasmissioni Sicuramente Proseguiamo Il nostro appuntamento Quotidiano Con questa immagine Che ci proviene Da Francavilla Squadra Della prima categoria Più precisamente Dallo stadio Valle Anzuca Come possiamo vedere Dall'immagine Qui ci sono Dei problemi Di simmetria Se guardiamo bene Il disco di centrocampo Risulta allineato Con il palo Della porta Chi sa Potrebbe essere l'inizio Per una nuova rubrica Poeti Con la prospettiva In mano Chi lo sa Torna A grande richiesta Una delle nostre Consuete rubriche La tocca piano Con la partita Dio Santo Dionisio Odorisiana Seconda categoria Andiamo a vedere I gol di Davide Di Pendima Della squadra di casa Con questa fantastica punizione Che meritava Proprio Veramente Di entrare Nella nostra Fantastica rubrica Andiamo a vedere Concludiamo il nostro consueto appuntamento settimanale Con la rubrica Poeti Con il righello in mano Andiamo in terza categoria Forse la categoria che ci dà sempre maggiori gioie e soddisfazioni in pagina Poeti Il righello in mano Solta fa tappa a Montenero Domo Provincia di Chieti Dove la scuola di casa Fa una segnaletica Molto particolare Sotto forma di linea laterale Per indicare dove si trova il parcheggio Questa è l'opera d'arte Anche oggi Il nostro consueto appuntamento settimanale termina qui Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social Facebook E Instagram Da Richard E Mattia È tutto Alice A te la linea Grazie a Mattia E Richard Richard non era stato benissimo la settimana scorsa So che poi è stato influenzato anche Mattia Insomma Sono contenta che siate guariti Grazie ovviamente per i vostri contributi esilaranti Male che non li conoscevi Adesso faremo in modo di avere qualcosina anche su di te Quindi preoccupati un pochino È arrivato È arrivato il momento Della schedina Ok? Sei pronto? Sì Ok Allora cominciamo proprio dalla partita La partita che più ti riguarda Amiternini ha scoppito L'Aquila ha giocato in trasferta Voglio il risultato esatto Risultato esatto Sì per questa partita sì Allora guarda io sono convinto di non prendere gol Perché come hai detto tu Sì abbiamo subito tanto Però concediamo poco Magari alla prima disattenzione subito ci fanno gol Però secondo me vinceremo Fincero? 4-0-4 Vinceremo 0-4 0-4 Caspita Ci sarà anche un tuo gol? Spero di sì Il gol dell'ex? Spero di sì Senza rancore ovviamente Senza rancore Assolutamente Ok Bisogna pensare al futuro e non al passato Certo Morro d'Oro Nuova Sant'Egidiese Qui potrebbe scappare un bel pareggio Perché comunque Morro d'Oro in casa Non è un campo proprio dove la Sant'Egidiese può giocare Può sfruttare tutti i suoi spazi Perché è veramente una bella squadra Ok Andiamo avanti con l'antagonista della stagione Mutignano-Pucetta Io secondo me perde Mutignano Ma non perché è lì con noi Ma perché Pucetta è veramente una bella squadra Sono tutti ragazzi all'altezza della promozione Anche chi sta in panchina Pensa alla panchina C'è Vinicio Paris Zazzara Che comunque sono giocatori Che comunque fanno la differenza in promozione Quindi secondo me Se la giocano a testa alta tranquillamente Saranno contenti i fratelli Cotturone Per le belle parole che hai speso Sul Pucetta Andiamo avanti invece con Piano della Lente Miano Piano della Lente veramente Ha avuto una rinascita incredibile Quindi secondo me vince Quindi uno Uno New Club Villa Mattoni Mosciano Calcio E sul Villa Mattoni mi è entrata Giorgia Che devo dire ha un appeal tutto suo Con il New Club Villa Mattoni Vai Non ho capito Villa Mattoni New Club Villa Mattoni Mosciano Calcio Mosciano anche veramente attrezzata come squadra Per me vince lì Due quindi Ok un bel due Bene interessante Pizzoli Elia Montorio 88 Vincenzino Elia Pizzoli Secondo me vincerà anche Sì sì Perché Montorio ce l'ha qualcosa in più Rispetto al Pizzoli Montorio ce l'ha qualcosa rispetto al Pizzoli Va bene Elia Mi spiace Però insomma è la sua schedina Sono sincero Poi ci aggiorneremo domenica pomeriggio Realtre Ciatria Fontanelle Questa è anche una bella partita Perché l'Atrina in casa È campo suo Comunque Quindi riesce a giocare Secondo me qui Rischia anche di vincere Uno Ok Ok Rosetana Celano Calcio Il Celano sta affrontando un periodo un po' così Anche se non merita la classifica Il mister l'ha subito detto Quando noi abbiamo giocato Ha detto forse Anzi anche noi ce ne siamo resi conti Il Celano forse è stata una delle squadre più forti Che abbiamo incontrato Che ci ha messo veramente in difficoltà Poi soprattutto al Gran Sasso Che è lì Due gol penso Oltre a Sant'Eccidiese Non ce l'hanno fatti Però ci hanno messo veramente in difficoltà Quindi secondo me potrebbe vincere Celano Ok quindi due Sì due Ok L'ultima San Gregorio torna in parte Questo è un bel derby Però San Gregorio vincerà domenica Ok quindi uno Sì uno E segnalarci prese secondo me Ah ci ha dato anche il marcatore Attenzione È importante Ok va bene Questa è una bella schedina Vediamo se riuscirai ad essere il primo finalmente a portare a casa una bella vittoria Non si vince niente però la gloria è meglio di niente Chi invece ha vinto e come Ci tengo a sottolinearlo È il nostro Nat Nat Natal Francesco Litterio Il grande giornalista con la G maiuscola del capoluogo che si è giudicato il terzo posto al premio Polidoro Quindi volevo fare gli auguri Mi unisco chiaramente a tutta la redazione per la conquista di questo importante riconoscimento Tra l'altro un articolo stupendo che vi consiglio di andare a leggere Com'è il titolo Nat? Non se lo ricorda? Dolce terra di confine È il resto troppo complicato Comunque dolce terra di confine Pizzoli C'entra Pizzoli sicuramente Quindi andate a leggerlo perché è straordinario Complimenti chiaramente a chi si è giudicato anche il primo e il secondo posto Noi però ovviamente portiamo in auge insomma il nostro Nat Complimenti davvero Grazie Roberto per essere stato con noi Spero insomma tu ti sia divertito Sì sì grazie Ok Era entusiasta Grazie a tutti ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Friday 1927 Grazie a tutti ancora e buon weekend Ciao Ciao a tutti Decollare giusto? Sì magari a volte concediamo troppo Però la maggior parte dei gol sono venuti per errori nostri secondo me Mai pochi per bravura dell'avversario comunque Magari il Musignano è molto bravo a difendersi E magari noi comunque attacchiamo tanto Quindi magari anche se vinciamo 3-4-0 Dunque un po' di spazio li lasciamo dietro